Il maltempo degli ultimi giorni ha causato non pochi problemi su tutto il territorio terramano, in particolare sulla costa. A Giulianova si sono registrati allagamenti, ma anche la caduta di due alberi, uno su Lungomare e uno su Via Brodolini, suscitando preoccupazione tra i cittadini. In particolare i residenti delle palazzine Ater in Via Brodolini, ma anche gli altri cittadini che abitano sulla stessa via e in quelle limitrofe, da mesi segnalavano il pino secco caduto sulla carreggiata. I problemi del genere sono diffusi su tutta la costa. In Via Brodolini abbiamo assistito alla caduta di questo albero, un albero che era stato già segnalato dagli uffici preposti per la rimozione e per la spalcatura. Questi e tanti altri, anche la rimozione di alcuni alberi secchi. Adesso l'albero è caduto, i vigili hanno già provveduto a segnalarlo all'Ater e a giorni manderemo un'ulteriore ordinanza all'Ater per fare in modo che possano intervenire il più presto possibile e mettere in sicurezza soprattutto l'incomunità delle persone. Altri alberi pericolosi sono stati già identificati e su cui il Comune sta lavorando, ma la gestione del verde è complicata dalla mancanza di personale e dalla transizione ad una nuova ditta di manutenzione. Il patrimonio di Giulianova è vastissimo. Adesso siamo in una situazione molto delicata di passaggio tra la Giulianova patrimonio a una società privata. Nel momento in cui la società privata sarà operativa, sarà compito nostro ovviamente provvedere a un sopralluogo delle zone, vedere quali alberi mettere in sicurezza attraverso la spalcatura e la portatura e gli abbettimenti di alcuni alberi che sono già secchi e peccolosi. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Ivan Costantini sta portando avanti anche un programma per la piantumazione di nuovi alberi. Noi già stiamo collaborando con alcune società, un albero in più, associazione più che società, un albero in più e con Alpa, con i quali provvederemo per la ricordificazione del patrimonio arborio a Giulianova, ma anche attraverso l'intervento diretto da parte del Comune.